Altro che spending review, dalla casta pugliese arriva un bel esempio. I consiglieri regionali non si tagliano i vitalizi ma le tasse sui vitalizi. Così, dal prossimo mese, arriveranno a percepire fino a 800 euro al mese in più. La delibera che porterà questo cospicuo regalo nelle tasche di 206 consiglieri in pensione o delle vedove dei beneficiari defunti, porta alla firma del presidente del Consiglio regionale, Mario Luizzo. stabilisce che l'IRPEF si applicherà solo sull'84,26% delle somme percepite. Niente tasse, invece, sul restante 15% dell'assegno vitalizio. La delibera, approvata con i voti di maggioranza e opposizione, si basa su un pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate secondo il quale dal 2012 una quota del vitalizio dei consiglieri regionali sarebbe stata tassata due volte. Dal mese prossimo, circa 1.500 euro non saranno più tassati. Per rimediare al presunto torto, dal mese prossimo, il 15% degli assegni sarà dunque tax-free. Facendo due conti, si tratta di circa 1.500 euro non tassati. Considerando che l'importo massimo percepito da un consigliere con almeno tre legislature è di 10.383 euro. E non basta. Qualche beneficiario di vitalizio annuncia ricorsi per recuperare le somme pregresse, ingiustamente versate.